non c'è una farmacia non c'è una farmacia buongiorno buongiorno desidera bene andate qui su questa farmacia non c'è una farmacia stai pure attieni che ti perde ti perde tutto la farmacia ah, vieni la farmacia buongiorno buongiorno è volare uno spazzolino come? uno spazzolino spazzolino è brilliant noi abbiamo migliaia di prodotti qui a Milano bene, come lo vuole noi abbiamo la spazzolino a setola morbida, a setola dure aspetta buongiorno desidera volare uno spazzolino non c'è una farmacia non c'è una farmacia buongiorno buongiorno desidera volare uno spazzolino non c'è una farmacia non c'è una farmacia non c'è una farmacia non c'è una farmacia poli mamma ti stai chiamando se non riesco a chiamare la farmacia non c'è una farmacia vuole ruppare il poli spazzolino al dentro ah, poli non c'è una farmacia dai, guarda ma qui ruppare il poli spazzolino al dentro